La pallacanestro è sempre stata la passione della mia vita, ho iniziato a giocare a otto anni, ho giocato nelle giovanili della allora Libertas 1946, ho fatto tutta la trafila delle giovanili in questa squadra, poi fui ceduto all'ora Fulgor Libertas Pallacanestro Forlì, che a quei tempi si chiamava solo Fulgor, era la squadra sorta nel giardino dell'oratorio di via Episcopio Vecchio e lì ho sempre continuato la mia passione verso la pallacanestro, ho avuto delle esperienze in varie società qui dalla Romagna, a Castrocaro, a Faenza, alla Giorgina Saffi, a Forlimpopoli, ho sempre cercato di dare il mio apporto quando ho smesso di giocare al movimento, al movimento cestistico che è una cosa in cui ancora credo, anche se molte cose nel basket sono cambiate, non possiamo negarcelo, il basket è radicalmente cambiato con la legge Bosman, con l'obbligatorietà degli under, ai miei tempi se eri bravo giocavi non c'erano problemi di età, non c'erano problemi di questioni anagrafiche e quant'altro. Nell'estate del 2014 fui chiamato da Gian Piero Valgimegli, nostro presidente, per sposare il progetto Tigers, a quei tempi tergiversai e dissi che volevo finire il cammino iniziato con l'allora Giorgina Saffi per poi dargli l'ok nell'agosto del 2015 dove iniziai questa esperienza, diciamo, anima e core con questa nuova società che stava sbocciando a Forlì. Sono molto contento di essere in questo gruppo, ho già notato una grossa novità dall'anno scorso, l'anno scorso eravamo una società a indirizzo e a gestione familiare, cioè facevamo con quello che avevamo nel nostro giardino di casa, con qualche acquisto nelle zone vicine a Forlì. Comunque abbiamo raggiunto ugualmente degli ottimi risultati fino a qualificarci alle finali di Coppitale disputateci nel marzo del 2016 a Rimini e abbiamo avuto la sfortuna di essere stati eliminati alla prima partita, però è stata comunque un'esperienza formativa molto positiva. Il campionato dell'anno scorso è stato un campionato veramente avvincente e quest'anno abbiamo avuto l'opportunità per una serie di circostanze di poter fare la Serie B. Io sono contento dei risultati che stiamo ottenendo quest'anno e si sta avverando quello che io avevo prospettato. Il nostro obiettivo sono i play-off, la squadra è una squadra amalgamata, allenata da un ottimo allenatore con il quale dopo determinate anche discussioni ma dal punto di vista cestistico abbiamo fatto la quadra. Abbiamo allestito una squadra di tutto riguardo con giocatori in crescita, poi l'avvento di Villani ultimamente oltre che essere un ottimo giocatore è sicuramente un leader e ha rasserenato il nostro spogliatoio che non dico che fosse problematico ma sicuramente l'avvento dell'esperienza di Cristian e di Uvato da Rombaldoni che non devo certo io presentare, è stato uno di quei giocatori che all'inizio della campagna acquisti ho voluto più di qualunque altra cosa. Sono soddisfatto, diciamo che è finita domenica il girone di andata e penso che gli obiettivi che ci eravamo dati con la società all'inizio del campionato siano perfettamente raggiunti. Non siamo calmi, non siamo calmi, i Tigers non sono calmi anche perché il nostro logo è la Tigre e la Tigre è anche quello che noi abbiamo dentro. Noi siamo molto sereni, siamo una squadra che ogni giorno cresce, che ogni giorno cerca di fare qualcosa di più, che cerca di assecondare i giocatori, cerca di fare stare bene tutto lo staff, tutti i giocatori che sono l'intorno, cercare di gratificare anche i nostri sponsor che sono sempre di più e non posso che dire grazie e spero che la città risponda. Go Tigers Go!